no assolutamente io silent neanche il follow anche io perché abbiamo un renec tonic bot la gente che ha all'inizio del game fa incazzare geova se jean che promo è raga oggi le bet cazzo apri le bet jean ragazzi no le bet sono state aperte eugog brutto coglione di merda jean ragazzi adesso no mi sa che giù hanno trovato un ragno perché sento mia madre mia saralla che sbraiano sei stato pallato questo è che è tirato tutti gli insulti di come evidentemente che non capa i mostri no cap famo un level to gank bot easy rip ho già perso due cs ho fatto entrambi i due cerchiamo di non farci bussare sotto torre sennò dai ok non hai lato ho fatto lei più belle della mia vita ok ah no ok è in top ho fatto lei più belle del mondo leona leona no 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 Pocca troia, doppio, doppio fottuto teleport, vacca puttana, holy motherfucking shit, porca troia, porca troia, ma sei un bidone, ma sei un bidone, hello? Vaffanculo, ah, non l'ho aggiornato, Mattia me lo aggiorni te? Oh, fastro, non lo so, qualcuno di voi che lo sa aggiornare, porca troia, raga, figlia, il doppio tp bot. Sì, basta la spadonza normale e si la stittano con un colpo di spada. Se non sapete come si fa, non fatelo, ragazzi. Se sapete farlo, fine, se no niente. Tanto, cazzini a sbattere la gente. Tanto alla fine tutte le volte aprono una cosa e fanno, eh, quant'è? E' tutti, eh. XY, ok. Il nostro bello Xinzao. Ma però Xinzao non mi puoi pingare che arrivi i botti, non mi puoi ti fermi a fare il fottuto scatto, eh. Da criminali. Non si fa. Un nemico è stato ucciso. Un alleato è stato ucciso. Perché? Perché Xinzao non ha smesso i... Non ho capito. Un alleato è stato ucciso. Questa è stata anche un�, non ci fermi a fare il fottuto. È un agio. Un alleato è stato ucciso. gentilizatore, non si fa. Sì. Va bene. Ok, abbiamo fatto una bella azione, meno male che Leona ha seguito il nostro girarci su Malzar che era super fuori posizione. Non ho capito... Ma sei un bidone! Non mi parlo più. Andiamo così. Dovevamo piazzare la pink. Almeno prendevo l'armor. Silvia, metti, ma che stracazzo dici? Ma che stracazzo dici? Ma che stracazzo dici? Ma che stracazzo dici? A parte che gioco, che cazzo mi pare? Ok, brutto incoglionito di merda. Ma poi che stracazzo dici? Senza offesa, eh, metti. Nel senso. Samira non fa pochi danni, sinceramente. Non è sicuramente il migliore adicare della patch, ma non fa sicuramente pochi danni. Attualmente io tra i nati ho Ash e Samira, quindi loro hanno Ash e io gioco Samira. Questa è l'unica e sola risposta che avrà sempre un senso. Potrebbe essere anche il peggior adicare di tutti. Se io ho tra i nati Samira e Ash, gioco Samira e Ash. Non gioco l'idea di carri non tra i nati. O soprattutto che non mi stanno divertendo al momento. Che sia il champion qui più penta è dovuto al kit, ragazzi, no? Il fatto che è sbloccato. Poi in mano mia... ...peggiora ogni roba. Bro! Mi hai stunnato il support. Poi ho tirato la V per bloccare i danni di Ash e mi sono beccato l'aggro della torre, scordandomi che la V fa danno. Porca troia. Questa è bad. Questa è stata brutta. Rip. Matthew, se parli seriamente puoi uscire dalla chat, tranquillissimo. E non mi interessi come viewer. Non perché sei qualcosa o roba del genere. Se non capisci che sto scherzando con te non... Non ha senso continuare questa relazione, ok? Esci pure, tranquillo. Vai a cercare qualcuno che è più sulle tue corde, ok? Niente... ...di personale. Come straccazzi di tiro fuori, sti tizi. Esatto, Matthew. Perfetto. Buona serata. Ciao. Ciao, Alpha. Ciao, Matt. Aspettiamo la prossima. Facciamo pushare leone. Facciamo pushare Ash. Poi andiamo. Ok, non c'è niente. Vediamo. Male. Male che l'ha preso leona, ma non importa, meglio di niente. Ah, giusto, sì, c'è la nostra pink. Non sappiamo se c'è qualcuno lì, eh. C'è una pink. Rip. Se la facciamo schiantare. No, quella la lasciamo. Che almeno pusha. Andiamo a prendere lo shield bow e torniamo in lane. Giusti per essere per il drag e tutto. Se ci mettiamo troppo a resettare. E phkpiamo la lane. Andiamo. Dai, dai. Che abbiamo un buon vantaggio. Sì, ne è 3-0, ma mi sembra che... Non so, l'impatto in mappa stia scarseggiando da parte sua. Questo ho visto male. La tua squadra ha distrutto un turno. La tua squadra ha distrutto un turno. Ora la lasciamo. Startiamo il drake. Giusto, c'era la pink. Me ne ho scordato. Andiamo a fare direttamente... Speriamo venga il drago dell'acqua. Yeah! Drago dell'acqua. Ci muoviamo verso lì. Non penso che riusciremo a fightare. E invece ci riuscivamo. Buono. Ok. Uh, vacca troia. Ha killato con le copie. Easy. Buono. Prendiamo la torre. Ah, la prima torre è già caduta. Non serve a nulla allora rimanere. Però ormai l'ho pingato. Quindi rimaniamo. Prendiamo torre e dopo rulatiamo per quello a questo punto. La tua squadra distruttiva. Quindi pare Vex ma... Però guardato non... Non mi interessano ragazzi. I campioni che non sono di carry di solito non... Non li cago più di tanto. E dal... Dal trailer dove usa solo le sue abilità a manetta qua e là io non ci capisco mai un cazzo. Quindi fino a quando non escono le abilità vere e proprie con statistiche e tutto... Non... Non ci do peso. Mettiamola in questo modo. Andiamo. Ok. E' doppiata da Chiara? Ma Chiara quella degli ODS dici Fabiard? Degli Orion? Atomico. Ascolta ragazzi ma in realtà... Devo un attimo focusarmi sul game. Ogni volta che mi giro a guardare la chat e cercare di seguirla dopo perdo un attimo il focus sul game. Non so più... Perdo il filo della partita. Ah. Ottimo, ottimo. Ciao Vale. Sì. Molto bene, molto bene. Brava lei. Vabbè... Non sono un critico di... Di doppiaggio. Sicuramente. Però... Fa piacere ecco vedere... Dei personaggi conosciuti ecco. Mettiamolo in questo modo. Vale, prima mi hanno... Vale, prima mi hanno... Ah! E' un po' di sottofondo si sente zero che... Che abbaia. Sì.